Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove si segnalano 7 km di coda per un incidente tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est, in direzione Livorno. Sempre in direzione Livorno, per lavori, 1 km di coda tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina. In A11, code a tratti tra Pistoia e Capannori, in direzione Pisa. Spostandoci in A12, code per lavori tra il raccordo Lucca-Viareggio e l'allacciamento con l'A11, in direzione Rosignano. In A1, verso Roma, code tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sesto Fiorentino. Verso Bologna, sulla variante di Valico, 1 km di coda per un incidente. In Galleria, tra Badia e il Bivio con la variante di Valico-La Quercia. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!